Toni inaccettabili, troppe sospensive, inquadramento inferiore, incalcio al verbale di accordo sindacale per il trasferimento di ramo di azienda da ACC a Sest, manca la firma della fiomma di Belluno. Ieri a tardasera l'avvertenza che sancisce il passaggio dei lavoratori alla società del gruppo Luve, i toni sono stati accesi. Ci sono dei temi per noi indisponibili, abbiamo tentato fino all'ultimo momento di convincere Sest a cambiare il contenuto degli accordi in alcune sue parti e non ci siamo riusciti. Per la fiomma nell'accordo non c'è una garanzia di occupazione per tutti i lavoratori, al netto dei 150 che verranno riassorbiti potrebbero non esserci soluzioni per i 100 esclusi pur al termine del percorso di promozione al lavoro delle competenze di ACC. Il commissario straordinario Maurizio Castro non commenta le scelte di nessuna delle organizzazioni sindacali ma osserva che ogni accordo rappresenta un punto di compromesso e quello raggiunto ieri l'unico possibile è un compromesso saggio perché preserva il futuro di Melle e dei suoi lavoratori e valorizza il patrimonio industriale della Valbelluna. Di tutt'altro tenore le considerazioni della FIOM anche in funzione del fatto che il trasferimento di ramo d'azienda avviene in presenza delle garanzie di sgravi contributivi previsti dalla legge di stabilità. Qualora però tali benefici non dovessero essere confermati, Sest si riserva di adottare una rimodulazione del proprio piano industriale compresi i previsti livelli di organico. Ci è sembrato che tutto è inappropriato che il piano industriale, il ricompreso anche l'assorbimento dei lavoratori sia, come posso dire, implichi il fatto che possa modificarsi a seconda di quello che è l'entità della decontribuzione. L'abbiamo posto al tavolo, Sest l'ha ribadito che anche questo è un tema sospensivo, questo è un accordo che è tutto spostato su Sest. Il passaggio dei lavoratori a scaglioni dovrà concludersi entro il 1 gennaio 2024. La procedura di amministrazione controllata è stata prorogata al 31 dicembre prossimo, termine entro cui dovranno essere sgomberate le aree aziendali che contengono i macchinari venduti al gruppo bengalese Walton.